Gentili telespettatori, buona giornata. È arrivata la sedicesima priorità di Enrico Letta e il PD, ma questa volta la priorità è diversa. Le prime quindici riguardano lui, il suo partito, il futuro del suo partito, il suo futuro. Questa sedicesima priorità per la prima volta comincia a guardare al presente, all'attuale. Dice che la parola riapertura è la più utilizzata, anche in maniera spropositata, in questi giorni. Riaperture in sicurezza e irreversibili, meglio specificare, considerata la situazione sanitaria ancora precaria e la tensione ieri nel Consiglio dei Ministri, intorno proprio al chiudere alle 22, alle 23, con la Lega che non ha votato, si è astenuta. Draghi dice non capisco, la Lega con i suoi ministri aveva detto sì, adesso siamo d'accordo e adesso, invece oggi, la Lega dice no. Attenzione che i ministri, i ministri della Lega, i tre ministri, devono seguire le direttive del partito che sono le direttive di Salvini. Quindi se Salvini la mattina dice votatelo e il pomeriggio dice non votatelo, i tre ministri, se vogliono continuare a lavorare nella Lega e avere un posto in Senato e in Parlamento, devono seguire la linea politica del capo. Funziona così, vi ricordate Renzi con la Bonetti e la Bellanova? Le ministri si dimettono, ma le ministri non avevano nessuna intenzione di dimettersi, si sono poi dimesse perché il capo le ha indotte ovviamente a dimettersi. Ecco, quindi i ministri devono seguire quello che dice il capo politico. Se il capo politico cambia idea, loro devono cambiare idea, anche se realmente magari non l'hanno cambiata. E così la Lega, con i suoi ministri, dice di no. Dice di no, non votiamo, anche se due giorni prima avevano detto di sì ed erano d'accordo per il coprifuoco alle 22. Tuttavia, oltre e in parallelo alle riaperture, è tempo di mettere al centro del dibattito pubblico e delle decisioni della politica anche la parola ricostruzione. Dopo 14 mesi che abbiamo alle spalle, dopo il dolore alle vittime, dopo le perdite economiche e la paura di non farcela, non bastano più sostegni o ristori. Bisogna ricostruire, secondo Letta. Il decreto imprese, lavoro e professioni che abbiamo chiesto al governo dopo aver incontrato rappresentanti di imprese e lavoratori, dice il capo del PD, è fondamentale nell'immediato per dare ossigeno alle aziende e partite IVA anche su affitti, bolletti e altri costi fissi. Queste misure sono una precondizione necessaria, dice. Non è però più sufficiente solo aggiustare, tamponare, ristorare. Si tratta ora di cominciare a scrivere, condividere e rendere operativo sui territori, un grande patto per la ricostruzione del paese. Vai dal ristoratore o dal barista a dirgli c'è un bel patto, ma quale patto? Io sto fallendo, non ho i soldi per l'affitto, ma quale patto? Ma di che state parlando? Mi immagino una persona che ha un'attività quando sente parlare di patto per la ricostruzione del paese. In passato ho avuto anch'io un'attività per nove mesi. Poi ho dovuto chiudere perché economicamente non funzionava. Sommerso dalle spese e il commercialista e paga la cassa e paga la luce, il telefono, la spazzatura, i contributi minimi e compra la merce. Era solo pagare, solo pagare. Ogni giorno avevo, nella cassetta delle lettere arrivavano, paga queste, paga quelle, paga questo e arriva il contributo minimo, la rata, l'anticipo dell'IVA. Una cosa, una, non lo auguro a nessuno. So che milioni di italiani sono in queste condizioni, cioè o chi lavora da dipendente da qualcuno o chi lavora in proprio. Quando lavori da dipendente ti danno quello stipendio e dici beh, io spero alle 5 di staccare la spina, anche se poi mi chiamano anche a casa. Però chi è autonomo? Autonomo nel senso che è un'impresa, lui. I problemi sono tanti, cari amici, sono tanti. Altro, come diceva Laguzzanti, commercianti col macchinone, col macchinone, il macchinone. Il macchinone magari è a rate, è a debito e poi magari non si riesce neanche più a pagare il macchinone. Ecco, parliamoci chiaro. Io ricordo che erano più le spese delle entrate. A un certo punto ho dovuto chiudere dopo nove mesi perché era impossibile, era veramente impossibile. A parte questo, Letta dice, dobbiamo sui territori, territori, sembra una roba da film di fantascienza, sui territori, un grande patto per la ricostruzione del paese. Il modello per noi è quello dell'accordo voluto da Ciampi nel luglio del 1993. Segnò una svolta nella storia economica del paese con imprese e lavoratori protagonisti della ripresa. Lì erano gli anni 90, nel 93 ancora l'Italia era in fase di toro, come dicono in borsa, in fase in salita, me lo ricordo anch'io nel 93. Erano anni di salita economica, gli anni 80 e gli anni 90. Alla fine degli anni 90 è cominciato il declino. Il declino economico comincia con la fine degli anni 90, credo che ve lo ricordiate anche voi. Fino al 1998, 99, inizio del 2000, tutto sembrava la Milano da bere, la Torino dell'aperitivo, la Roma di qua, di là. Ecco, insomma, l'Italia degli Iuppi, giovani di successo, come nei film di quegli anni, ve li ricordate, con Jerry Calla, Iuppis, giovani di successo, con il Ferrari Testa Rossa, con la Maserati Biturbo, ve la ricordate? La Maserati Biturbo. Ecco, quelli erano gli anni 90. Ciampi, nel 93, segnò una svolta storica economica del paese, con imprese e lavoratori protagonisti. Il parallelismo è forte, me ne rendo conto, dice Enrico Letta. Il patto di Ciampi spianò la strada al superamento della crisi strutturale del 92-93, quella di oggi, di crisi, è diversa, più drammatica e pervasiva nel suo impatto sul nostro stesso sistema di vita e di relazioni, nel modo di produrre, lavorare, consumare. Uscirne oggi come allora, dice Letta, sarà dura, ma a differenza del passato avremmo dalla nostra la possibilità di sfruttare risorse considerevoli, benché molte a debito. Eh sì, molte a debito, perché c'è già Giuseppe che ha fatto 150 miliardi di debito. Adesso ci saranno quelli del Recovery Fund che oltre la metà sono a debito, debito aggiuntivo, debito aggiuntivo. E dice, beh, insomma, uscire oggi come allora sarà dura, ma a differenza del passato avremmo dalla nostra la possibilità di sfruttare risorse considerevoli, benché molte a debito, risorse mai così ingenti dal secondo dopoguerra a questa parte. C'è lo spirito giusto per vivere questo passaggio d'epoca superando i particolarismi e rimboccandoci tutte le maniche per l'interesse generale. Ci sono segnali contrastanti, ma io mi auguro ancora di sì. Io vi lascio con Letta e il suo patto stile Ciampi del 1992-93. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.